The Spark Creative Hub riaccende le luci. Il centro polifunzionale dedicato al mondo del design, della fabbricazione digitale e della musica, con una straordinaria disponibilità di vinili e dell'editoria, riapre i suoi spazi di Piazza Bovio 33 a Napoli e inizia un nuovo cammino con prestigiosi partner istituzionali e imprenditoriali come l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, rogiosi editore in una start-up e altre grandi realtà che entreranno in network con The Spark. Il nuovo corso è stato illustrato in una conferenza stampa dall'architetto e designer Michela Musto, ideatrice del progetto The Spark, insieme a Adriano Giannola, presidente Svimez, Ramo Rispoli, professore associato di design del Dipartimento di Architettura della Federico II, Alex Giordano, docente di innovazione sociale e trasformazione digitale, sempre della Federico II, e Carla Langella, professore associato di disegno industriale dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vambitelli, e infine Rosario Bianco, founder di Roggiosi Editore, una casa editrice napoletana sempre impegnata sul territorio. Siamo prontissimi, tra poche ore apriremo le porte, finalmente siamo pronti a riaccogliere la città di Napoli, siamo pronti a ripartire anche in un momento così particolare, noi ci siamo, ci saremo in massima sicurezza, con il massimo della nostra energia, siamo felicissimi e pronti a riaccogliere tutti. La creazione di una rete è uno dei goal principali di The Spark, che intende collaborare e fare di questo luogo uno spazio di dialogo neutro per quanto riguarda il design, le tecnologie e tutto il mondo dell'innovazione. Si tratta di un hub per cui i punti e le attività che toccheremo sono assolutamente eterogenee, accoglieremo qui dei corsi di scrittura e lettura creativa, abbiamo appunto una rassegna con la casa editrice Roggiosi e quindi al di là di tutto il comparto accademico, tutto il reparto tecnologico che intendiamo assolutamente supportare e spingere sul nostro territorio, abbiamo sicuramente un grandissimo focus su tutta la parte editoriale e letterale. Viva The Spark in questo momento, nel senso che questa iniziativa partita in un momento storico veramente drammatico ha bisogno di fortuna, ha bisogno di vivere uno spazio bellissimo concepito secondo un sistema moderno diciamo di avvicinamento alla lettura e agli spazi diciamo fruibili dai lettori e a mio avviso deve avere la migliore fortuna possibile. E' chiaro che questo momento in cui forse in un momento in cui anche il Salone del Libro di Napoli è ancora in forze che sta subendo vari rinvii, una piccola rassegna ma intensa, bella nel suo concetto diciamo merita ampia soddisfazione. Grazie!